Allora, eccoci qua ad uno nuovo special del salotto Monogatari, la vostra beniamata rubrica il Nippon Monogatari, torniamo oggi con una nuova puntata dedicata alla bomba all'interno dell'immaginario del cinema, ma non solo giapponese, perché poi è molto probabile che ci sarà anche spazio anche ad altri media, e con me c'è sempre lo storico Gian Maria Sempre presente qua per andare avanti con questo bel percorso sul cinema giapponese, però oggi non siamo da soli Non siamo da soli, perché con noi c'è un ospite, il primo della rubrica, quindi a noi gli onori di avere Edoardo Esposito Ciao Edo Ciao a tutti La direttora suona è il primo, ma che onore Sì, il primo della rubrica Il primo della rubrica Allora speriamo di non condannare la rubrica prima ancora di farla nascere con la mia presenza Spero di essere una presenza adeguata allora Vabbè, diciamo che l'auspicio è quella di farla durare il meno possibile, quindi... Non sarebbe bravo Come un cerotto Comunque, schizzi a parte, stavamo... Cioè, in realtà, com'è nato l'invito ad Edoardo? Oltre al fatto che ci conosciamo privatamente e quant'altro Stavamo discutendo io già, ma su quale potrebbe essere poi il percorso di questa rubrica E quindi della sua naturale evoluzione E avevamo pensato che comunque uno degli eventi fondamentali che ha segnato Diciamo, l'immaginario culturale del Giappone, quindi non solo il cinema È stato l'evento tragico della bomba Sia di Hiroshima che a Nagasaki E ragionando un po' su questo evento Quindi andando a sfogliare un po' di letteratura online C'eravamo convinti di fare una puntata dedicata alla bomba E parlando anche con i nostri conoscenti Mi è venuto subito in mente il nome di Edoardo Perché è una persona che si è occupato appunto Di rintracciare, diciamo, la figura della bomba all'interno di questo immaginario collettivo Attraverso la sua tesi di laurea Quindi ha dedicato anche parte del suo percorso accademico alla causa E quindi per iniziare, diciamo, per rompere il ghiaccio della puntata Sarei curioso di ascoltare il frutto degli studi di Edoardo Esposio E poi da lì strutturare la puntata A te la parola Edo Allora, a parte che, insomma, quale onere Però diciamo che io in realtà sono ancora in piena ricerca Mi spiego, per un anno interrotto questa ricerca sulla bomba Perché è un po' normale Quando si studia qualcosa per molto tempo O con molta intensità Dopo un po' si ha la necessità anche di cambiare aria, no? Per così dire Quindi per un po' mi sono distaccato dal tema Però, diciamo, non nascondo che è un problema Quello della bomba che continua ad ossessionarmi E infatti di recente ho ricominciato le mie ricerche Ho ricominciato a studiare Questa volta anche Proprio con una maggiore attenzione alla bomba Anche in altri media E quindi in altri linguaggi Quindi, diciamo, è una ricerca in fieri La bomba perché è interessante? Ma perché innanzitutto è stato un evento liminale Un evento fondamentale Che ha segnato uno spartiacque nella contemporaneità Dopotutto la bomba non ha toccato solo il Giappone Dal punto di vista discorsivo Dal punto di vista dell'immaginario Ma ha avuto un effetto Un impatto notevole anche su di noi Sulla nostra cultura Ricordo sempre intellettuali come Elsa Morante Ad esempio in Italia Che si ponevano proprio il problema Del ruolo dell'intellettuale Nell'età della bomba Elsa Morante aveva scritto un bellissimo volume Che si chiamava Pro contro la bomba atomica In cui c'è appunto un saggio In cui Elsa Morante si interroga Sul rapporto dello scrittore La realtà Nell'età atomica Perché in fondo Diciamo che Sia la modernità cinematografica Che la modernità letteraria Si sono trovate anche a cadere Proprio nell'età post Hiroshima Nell'età della guerra fredda Quindi era un'urgenza Parlare della bomba E porsi il problema della bomba Un po' come Del resto era un'urgenza Parlare dei campi di concentramento E in particolar modo di Auschwitz Quindi la bomba atomica Come fatto centrale Come fatto essenziale Per comprendere la contemporaneità Primo punto Secondo punto La bomba Che viene messa in forma Soprattutto in Giappone Attraverso Il fumetto Il manga E l'animazione Gli anime Questa mi sembrava Qualcosa di molto peculiare Perché Ci si aspetta Ecco Abbiamo citato Il Samorante Ci si aspetta la letteratura In prima linea In realtà in Giappone Per molto tempo La letteratura Del secondo dopoguerra Ha avuto un po' difficoltà Proprio a raccontare la bomba Lo ha fatto Però ecco In generale L'ordine del discorso Soprattutto nella carta stampata Nel giornale La letteratura Tendeva a non parlarne C'è stato una sorta di silenzio In Giappone Sulla bomba Paradossalmente Per almeno vent'anni Ne abbiamo parlato Più noi occidentali Dei giapponesi E questo è molto interessante Ci sono studi Proprio su questa Sorta di Di censura Di dimenticanza Di eliminazione Di Hiroshima e Nagasaki Come Un evento Nel complesso Misterioso Un evento Anche con un alone mistico Di cui quasi Non si doveva andare a parlare Un evento Un evento Innominabile Ecco Su cui però Comunque Tutto il sistema Sociopolitico Del Giappone Del secondo Dopoguerra Anche il rapporto Alle altre nazioni Si basava Per cui Era interessante Notare anche questa Scomparsa Della bomba Dal Dal discorso Dominante Eppure la bomba Si fa sentire Negli anime Nei manga Quindi Mi sembra C'è un po' Questa suggestione Che ho ricavato Da un volume Molto importante Di Robert Matthew Che si chiama Japanese Science Fiction In cui Si finisce Il capitolo 13 Proprio dedicato A War and Bomb La guerra La bomba Dicendo che Forse Il significante Cioè Quello che In qualche modo È la parola La parola Non aveva Potuto rapprendere Tutta la realtà Della bomba E quindi Per comprendere La realtà Della bomba Era necessario Andare Andare Nell'immagine Andare Nell'immaginario Non che Chiaramente La letteratura O i giornali Non entrino A far parte Dell'immaginario Sarebbe Indubbiamente Sbagliato Vederla così Però L'immagine Ecco Quindi Gli anime E i manga Sono stati In qualche modo Il luogo In cui La bomba Come uno spettro È fuggita Io dico sempre Gli spettri Di Hiroshima E Nagasaki Scappano Nell'immaginario Degli anime E dei manga Prendono Tante forme Vengono Metabolizzati Rielaborati In modi Molto diversi E qui A questo punto C'è la mia ricerca Che è ancora In corso C'è quella Di Rintracciare Proprio in una forma Spettrale In anime E manga L'evento L'evento Delle due bombe O della bomba Quasi come se ci fosse Una sintesi Tra Hiroshima E Nagasaki Anche da un punto Di vista Iconografico Se volete poi Ci possiamo Tornare Perché in realtà Le due bombe Hanno anche Da un punto di vista Proprio dell'immagine Molto diverse Il fungo È quello di Nagasaki Ad intenderci Però Non ci sono Di Hiroshima Spesso e volentieri E Hiroshima E Nagasaki È molto meno Hiroshima No? Quindi c'è Nagasaki Viene visto come una sorta Di ripetizione Secondaria Come una sorta Di eco Di Hiroshima E invece Tutto viene Sintetizzato In questa sorta Di Figura del fungo Atomico Dai contorni Sfumati Fazzi Che però È stata Al centro Di moltissime Rielaborazioni E quindi Io Cerco Di Sondare Con una sorta Di Sonar L'immaginario Nipponico E Come lo fanno Anche tanti altri Perché Devo dire la verità Su questo tema Si scrive Si è scritto Tantissimo C'è tanta Letteratura Scientifica Ci sono Tanti studi Fantastici Italiani Per cui Come per esempio La bomba E l'onda Di Andrea Fontana Ma ci sono Veramente tantissimi Studi Anche In Mazinga Nostalgia Di Marco Pellitteri A cura di Marco Pellitteri Ci sono delle pagine Bellissime Proprio dedicate All'iconografia Atomica Quindi C'è tanto Ancora Da ritrovare Tanto ancora Da dire E però Mi sembra Anche molto attuale Perché In fondo Si tratta Della rielaborazione Di un trauma E noi siamo In pieno trauma Secondo me Siamo in pieno trauma Da covid Cioè Si sta formando Un trauma Soprattutto Nelle giovani Generazioni Probabilmente Vedremo Tra qualche tempo L'emergere Di Di Rielaborazioni Proprio di Questa Di questo Di questo Evento Devo dire Già ne vedo Nell'immaginario Nipponico E faccio riferimento Soprattutto a Japan Sinks Che è uscito da poco Di Di Yuasa Già si sente L'eco Di questa Rielaborazione Del covid Però Ecco Mi sembra Interessante In generale Studiare Il rapporto Tra l'immaginario E i traumi E gli eventi Traumatici Perché Spesso Possiamo Avere una Comprensione Storica Più accurata Attraverso L'immaginario Che attraverso L'astrografia Tu curro Quella alta Anche perché L'immaginario Impatta sulle vite È sempre Incarnato L'immaginario Ci riguarda Tutti Noi attraverso Le storie Attraverso I racconti Attraverso I film O i fumetti Cerchiamo Di venire A patti Con la vita Quindi Mi sembra Interessante Occupare Occuparsi Di questo Tema Perché Riguarda Anche il rapporto Tra la vita E L'immaginario Quindi questo è lo spunto Cosa provo a fare Cosa vorrei provare a fare E che cosa Mi sembra Necessario fare Focalizzarsi Sull'immaginario E rinvenire le forme O gli spettri Di Hiroshima E di tutti gli eventi Traumatici In generale E il Giappone Che è un paese Purtroppo Dobbiamo dirlo Con una serie Di traumi No indifferenti In diverse epoche E poi li possiamo Ripercorrere C'è un elenco Di traumi Che è infinito Voglio dire Mi sembra Una piattaforma Di traumatologia Dell'immaginario Notevole Ecco Non so voi Che ne pensate Vi ho dato qualche spunto Spero di non avervi Annoiati No In realtà L'idea L'idea Sarebbe quella di Stare ad ascoltarti Per altri 20-30 minuti Tranquillamente Perché era Estremamente interessante Però Condivido Gran parte Condivido gran parte Del discorso Che ne hai fatto Poi magari Assieme a Gian Maria Cercheremo di Costruire Con te Appunto Questa puntata Attraverso anche Gli spunti Che hai dato Che sembrano essere Sia interessanti Sia Totalmente fondanti Poi con quella Che era l'idea Della puntata Anche perché poi Tra i film Che avevamo pensato Io e Gianma Oltre ai classici Dell'animazione Che parlano In modo più o meno Esplicito Di eventi Catastrofici Che fanno Rimando Alla bomba Ci sono anche Parecchi film Che parlano Di comunità Distrutte Dalla bomba Quindi la bomba Non solo come segno Di distruzione Proprio fisica Ma anche come Una distruzione Di un tessuto Sociale E quindi Da qui poi I film Parlerà Parlerà Giamma Quindi Hiroshima Child of Hiroshima Di Kanato Shindo La tetralogia Yakuza Di Kinji Fukasako Che si ambientano Proprio a Hiroshima Fino ad arrivare Poi ai film Contemporanei Dove c'è Una rielaborazione Del lutto Digitale Per certi versi Virtuale Non saprei Come Come definirla Ecco poi Magari dopo Ci lavoreremo su Ci arriviamo Esatto Di Sion Sono Di E di Yobayashi Anagatano E ovviamente Passo la parola A Giamma Se ha qualcosa Da aggiungere Volevo aggiungere Sì Ha detto due cose Molto intelligenti Ha detto Molte Più di due cose Intelligenti Però Volevo soffermarmi Su due Il fatto Che comunque La rielaborazione Ne Media Soprattutto In Giappone Penso sia uno Dei paesi Se non Il paese Che gioca Molto Di più Su questo Su questo aspetto I giapponi Sono estremamente Fissati Nel rielaborare I loro lutti Storici O sociali Nel cinema Nell'animazione Nel fumetto Nella letteratura È proprio Un'industria Molto florida Da questo punto di vista Quindi è Normale Che poi Anche Nella Parlava Dell'animazione Si riscontra Anche questo Anche perché L'animazione Giapponese Per certi versi È sempre Stata Molto Molto vicina Al tema Della guerra Perché se pensiamo A come nasce La moderna La moderna Animazione Giapponese E poi di tutti i punti Cardine Della sua evoluzione Sono spesso Collegati Al tema Al tema Della guerra Perché se pensiamo Al primo Al primo lungometraggio Animato Si tratta comunque Di un film Su Momotaro Che comunque Era una figura Creata Dal governo Una figura Nazionalista Che incarnava Un po' i valori Dei soldati Giapponesi All'epoca Della guerra In Cina E poi Della seconda guerra Mondiale Quindi diciamo Che l'animazione Moderna Nasce proprio Collegata A questi Aspetti Di guerra E poi Molti Avvenimenti Cardine Passano Sempre da quei temi Pensiamo Alla rivoluzione Dei robot Degli anni Sessanta E settanta Tutte opere Che parlano Di guerra Ma anche Le epopee Cosmiche Di Leiji Matsumoto Nel senso Tezuka Che è uno Dei padri fondatori Sia del manga Sia dell'animazione Giapponese Ha spesso Trattato Il tema Della guerra Una delle figure Epiconiche Che Astro Poi fa Comunque Rimando Ancora una volta A tutto il tema Del nucleare Per esempio Quindi Parliamo Di un medium Quello animato Che è strettamente In contatto Con questo mondo Quindi poi I film di cui Andremo a parlare Tra poco Saranno la conferma Di questo aspetto E insomma La cosa interessante In realtà È che Questa rappresentazione Dei drammi Si svolge In due modi diversi Perché C'è una chiave Più Metaforica Di molte opere Quello d'animazione Puntano molto più spesso Su questa rielaborazione Più Più sotto traccia Più metaforica Dell'evento Parlando A livello Della bonda Proprio Mentre poi c'è La ricostruzione Più Più reali Dei fatti Delle conseguenze Dell'esplosione Sono molto più tipici Invece Del cinema live action Normalmente Però logicamente Ci sono Casi particolari In uno E l'altro campo Ecco Sì 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 No io sono Totalmente Totalmente d'accordo Anche con Giamma Quindi Cercando di Impreziosire Entrambi i discorsi Volevo aggiungere Ancora un altro Tassello a questa puntata Che a mano a mano Si sta Costruendo Ovvero che poi L'evento Drammatico Della bomba O quant'altro Raggiunge Diciamo L'eco Di quella tragedia Raggiunge anche L'epoca Contemporanea Che spesso Attraverso Anche vari media Come diceva Edoardo Nell'introduzione Che possono essere Sia i manga Sia La televisione Sia il cinema Spesso sono collegati Tra di loro Facendo dei rapidi esempi Con i manga Giusto per intenderci Mi viene in mente L'Eclissi Di Berserk Mi viene in mente Il Third Impact Di Evangelion Eh beh Certo Sì Sono comunque Delle opere Legate ad un evento Catastrofico Che è lì Per distruggere Buona parte Della popolazione Se non tutta E facendo quindi Un rapido Phil Rouge Che connette La contemporaneità Con L'epoca Quindi Dalla teologia Dalla teologia Di Fukasaku Ovvero I Yakuza Papers Le lotte Senza codice D'onore Alle contemporaneità E quindi Legando anche Due media Mi viene da fare Questa sorta Di Diciamo Di digressione Ma non troppo Ovvero Collegare Death Stranding Di Idea Kojima Che poi In realtà Dovrebbe Death Stranding Di idea Che hanno Ma lì È un altro È un altro Discorso È un altro Discorso Non dirlo a nessuno È un altro Discorso Non dirlo a nessuno Esatto È un altro Discorso Anche se poi In realtà Questo fa capire Ancora Quanto Quanto collega Poi È come se ci fosse Una sorta Di memoria collettiva Di quell'avento Che tende A metabolizzare Quasi tutti Allo stesso modo Quindi Death Stranding Con la tetralogia Degli Yakuza Papers Perché Perché Gli Yakuza Papers Di Fukasaku In realtà Hanno una trama Molto semplice Ovvero Questa cittadina Che Guarda cassa Si chiama Hiroshima Devastata dalla bomba Cresce con questo Tessuto sociale Sfibrato Che poi Partorisce Questa Piccola Banda Di Diciamo Malviventi Che col passare Dei film Diventeranno Sempre più Grandi Come status Fino a rappresentare Poi La Yakuza Che si introduce A livelli capillari All'interno Della Socialità Giapponese E quindi Qui È più Un discorso Che si Che pone La lente Di ingrandimento Su La causa Della bomba E non la bomba Come evento in sé Così come Death Stranding Perché Death Stranding Appunto Pone La sua lente Di ingrandimento Su questa Civiltà Iper tecnologica Ma allo stesso tempo Rurale Che si ambienta Dopo Il Secondo Death Stranding Che sarebbe Questa sorta Di Big Bang Quindi ancora una volta L'avento Catastrofico Che distrugge Distrugge Un ecosistema E Questa cittadina È Costretta A rialzarsi Attraverso Poi questo Corriere Che Diciamo Con i suoi percorsi Con le sue consegne Ricostruisce Un po' Anche il tessuto Sociale Di questa America Per certi versi Di questi nuovi Stati sociali Ed è curioso Perché poi Quello lì È un evento Totalmente legato Al Giappone Ma ambientato In America Quando poi La storia Sappiamo tutti Com'è andata Però è ancora più curioso Perché Fa capire che La bomba È stato un evento Talmente tragico Talmente traumatico Che non è solo Un evento Giapponese Ma è diventato Un evento Un evento Tragico Ormai mondiale Come diceva sempre Edo All'interno Dell'introduzione Quasi come L'olocausto Per certi versi Se non come L'olocausto È diventato Quindi un tema Un tema Un tema Universale E queste due Cittadine In realtà Cosa Queste due Cittadine Quindi quella Di Death Stranding E quella Di Hiroshima Nei film di Fukasago Cosa ci mostrano Ci mostrano Quindi La condizione Degli esseri Che abitano Queste due Queste due lande Che sono Costretti Poi A farsi Strada All'interno Di un sistema Che non è più Quello di prima Quindi Abbracciano il terrorismo Quindi abbracciano La mafia Appunto E mi viene in mente Una scena Particolare All'interno Di Yakuza Peppers Non ricordo bene Se fosse Il secondo Il terzo Forse Jamma Mi darà Mi riuscirà A dare una mano Dove c'è Una sorta Di ellissi temporale Dove ci sono Gli yakuza Che inseguono Un cane E poi Della carne A tavola Dove gli yakuza Si riuniscono e mangiano Facendo capire Che poi Addirittura gli yakuza Che dovrebbero avere Uno status privilegiato All'interno Di quel sistema Sono ridotti A mangiare carne Di cane randaggio Per poter Sovravvivere E questa la dice lunga La dice lunga Su come Il Giappone In generale Vede Questa bomba Vede questo Evento tragico Dove non ci sono Dei privilegiati Delle persone Che hanno potuto Tentare la Scalata sociale Ma che se l'hanno fatta E comunque Una scalata sociale Molta Per certi versi Non proprio Di come ci si aspettava Quindi non proprio Dove alla fine Di questa scalata C'è ricchezza C'è fama C'è podere O quant'altro Credo sia il secondo Non ricordi anch'io Precisamente Però insomma Cambia Cambia poco Sì sì Io avrei Giungerebbe L'ultima L'ultimissima cosa A livello Puramente storico Per Insomma che va a definire Poi il discorso Che faremo su alcuni film Prima di partire Poi a parlare magari Proprio Approfonditamente Dei film E il fatto che Comunque Nel 2011 C'è stato il disastro Nucleare Di Fukushima Quindi l'esplosione Della centrale nucleare E questo è stato un momento Comunque fondamentale Perché Ha dato il via Un secondo Una seconda ondata Un secondo ciclo Di opere Che sono tornate a parlare Fortemente Del nucleare Ancora O in chiave metaforica O in chiave Puramente reale Di riso conto Di ciò che è successo E non solo Del Del disastro Di Fukushima Ma tornando ancora indietro Un'altra volta Alle bombe atomiche Quindi diciamo C'è stato un altro momento Molto importante Sì Se posso aggiungere Una cosa Insomma Si può fare Proprio una scaletta Di vari eventi Traumatici Cioè nel 1923 Il terremoto Del canto Nel 45 6 e 9 agosto Hiroshima e Nagasaki Poi C'è nel 1989 La bolla finanziaria Che chiude Quel momento Di risalita Socioeconomica Del Giappone Almeno in apparenza Che era stato segnato Dal 1964 L'Olimpiadi Poi c'è nel 1995 Il terremoto Di Kobe E l'attentato Alla metropolitana Di Tokyo E in piena crisi Del 2007 2008 Quindi in questa In un clima di crisi Economica E valoriale Non indifferente Nel 2011 Irrompe appunto Fukushima Quindi È una spinta Di traumi Non indifferente Voglio dire Uno Insomma Anche in tempi Abbastanza Ravvicinati No? Come Come dicevi appunto Tu prima Sì 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 No Hanno Diciamo Dei traumi Da cui Attingere Qui basate Poi Un futuro Immaginario Culturale Veramente Veramente Ampio Ora lascio la parola A Gianmaria Che mi sembra Voleva dire qualcosa No 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 Stavo giusto Dicendo anch'io Questo insomma Che comunque Sono tutti Avvenimenti Che tuttora Vengono richiamati Comunque se penso Anche al terremoto Del canto Insomma È stato anche Richiamato Da Miyazaki Chi si alza Il vento È comunque Un film È molto recente Quindi insomma Sono passati Quasi cento anni Ma sono tutti eventi Che continuano Immaginazione Le opere Ancora Moderne Quindi Ribadiamo ancora Questo fattore Del Giappone Che continua A riutilizzare I suoi drammi Per la produzione Artistica Ecco Sì esatto Io direi Che Diciamo È il momento Di Incentrarci Di cominciare Di entrare Nel ventre Ancora più Nel ventre Della puntata E quindi Cominciare Questo percorso Di film Che abbiamo scelto Tra finzione Di animazione E farei cominciare Farei cominciare Già Se sei d'accordo Sì dai Diciamo Parliamo magari Dei primi Dei primi Due film Importanti Degli anni Cinquanta A riguardo In realtà Per via Dell'occupazione Americana In Giappone Fino al 1052 Come abbiamo già detto Anche nella puntata Precedente Sui samurai C'è stata appunto La legge Sul cinema Degli americani Che Non permetteva In realtà La produzione Di Molte opere Che li Criticassero Apertamente Infatti Fino al 1952 Uscirono Solamente Due film Al soggetto Sulla bomba Atomica Proprio perché Nessuno riusciva A superare Un po' La censura La censura A riguardo E dopo 1952 Invece Iniziano ad uscire Più opere Proprio Nel 1952 Esce proprio I figli della bomba Children of Hiroshima Di Scinetto Allora Iniziamo a parlare Appunto Del primo Del primo Di questi due film Che è Il film Dreno Hiroshima Di Caneto Shindo I figli della bomba In italiano E Come abbiamo detto Appunto Sarà uno dei film Film cardine Soprattutto Nella realizzazione Della scena Della bomba E qui si vede In realtà Già tutto Il discorso Dell'orrore Che fa Che farà Shindo Poi nella sua carriera Perché è famoso Soprattutto per i suoi film Horror Come Onnivaba Per esempio E ciò qui appunto Si trova Quella che è La sua La sua Idea Del Del gusto Dell'orrore Perché nella scena Della bomba Attua delle soluzioni Molto Interessanti Passa Attraverso Un gioco Tra silenzio E suono Perché nel momento In cui arriva la bomba Si Si azzera Si azzera Il sonoro Per Per qualche istante E poi parte Un montaggio Molto frenetico Di Esplosioni E Di corpi Decomposti Infatti c'è Molta molta Attenzione Ai corpi E alla loro Composizione Nell'inquadratura In quanto Quasi ultima Testimonianza Dei corpi Che ormai Possono vivere Unicamente Nell'inquadratura Utilizza il montaggio Per esempio Con Dissolvenza Appunto Per Stare La scomparsa Di Di queste persone C'è una scena In cui viene rappresentato Una persona Seduta sui gradini E poi Nel momento In cui arriva la bomba Tramite una dissolvenza Scompare E rimane Solamente Solamente L'ombra E quindi c'è tutto Questo Questo discorso E Sui silenzi Sui suoni Anche Nella Scena finale Del film La protagonista Si trova ad ascoltare Un aereo Che passa nel cielo In quel momento Kaneda Shindo Decide di Azzerare Praticamente Tutti i suoni E dimostrare Solo quello Dell'aereo Proprio A rimarcare Questa Tensione Orrorifica Di Dei rumori Che ormai Sentiti una volta Richiamano poi Una paura Primordiale Quella appunto Del bombardamento E la storia Parla appunto Di questa Professoressa Che torna A Hiroshima Dopo 7-8 anni Dall'esplosione Della bomba Per vedere Per andare A pregare Nella tomba Di famiglia Dove sono morti I suoi parenti Anche lei era lì Era lì quel giorno Ma si è riuscita A salvare A fare visita Ad alcuni Dei suoi Dei suoi vecchi Studenti E il film È a tratti Molto documentaristico Perché Sia nei movimenti Di macchina E in alcune sequenze Mi viene in mente Appunto Quelle Excessive All'esplosione Della bomba Si va ad esplorare Con dei movimenti Di camera Molto Molto ampi Ad esorazione Dei luoghi E poi C'è anche Un'attenzione documentaristica All'emozione Di personaggi Come viene rielaborata Di vista Di vista Un'influenza Un'influenza Quasi neuralista Nella Nella messa in scena Perché Anche qui Troviamo Personaggi Che comunque Viaggiano Come può essere Un Germania Anno zero Di Rossellini Nella devastazione Di visione Dei piani Mentre la protagonista Parla appunto Con i suoi Con i suoi vecchi studenti C'è sempre una grande Profondità di campo Nelle inquadrature Che divide Appunto Il primo piano Dove Solitamente Sta La professoressa E poi Il campo Più 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 Lontano Dove stanno Invece I personaggi Con cui Con cui Con cui Parla Ed è un film In realtà Molto Con tono Molto drammatico Stornato proprio Da una regina Ma è un montaggio Che punta A rendere Proprio La drammaticità Del Del tema E Poi passiamo appunto Al film del 53 Che è Hiroshima Di Sekigawa Che A certi versi Fa Un'operazione Simile Soprattutto Però Ancora più Acuita Nel senso Che come ho detto Il film precedente Non convince Troppo I produttori Che Non erano Molto felici Della Non critica Diciamo Che Che Shindon Non mise Nel film E quindi Il film di Sekigawa In realtà È molto più Critico Da questo punto Di vista Però Trova soluzioni Molto 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 Simile Infatti Anche qui Nella scena Della bomba Troviamo La stessa La stessa idea Quindi Nella presentazione Prima di tutto In silenzio Quindi con quegli attimi Quasi interminabili Dell'esplosione Un montaggio Un montaggio Molto serrato Ancora una volta Un'attenzione Incredibile Ai corpi Che Che si squagliano Sotto 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 Le radiazioni E Il film è interessante Anche perché Insomma Permette Di lavorare Come comparsi A 90.000 persone Di Hiroshima Quindi C'è anche una ricerca Molto surreale Delle persone Che hanno vissuto Realmente Quei momenti In modo da rendere Il film Assolutamente Assolutamente Vero L'Hiroshima Di Questo film Erwin è rappresentata Come un inferno Completamente Perché questo è un film Che comunque si ambienta Interamente Quasi interamente Nei momenti Successivi Alla bomba Se non poi Nel finale del film Si sposta A qualche anno dopo Però ripeto Un film che mostra Esattamente Un inferno Sia a livello Proprio Di distruzione Di fiamme Che vivono Nell'inquadratura Sia come vengono Rappresentati I corpi Che sembrano Quasi quelli Di un girone Di un girone Dantesco E dell'inferno Anche qui Tutti Squagliati E infine Lo dicono Le stessi Sopravvissuti In varie battute Del film Si trovano A ripetere Quanto Hiroshima Sia diventata Un inferno Da un film Che Come ho detto Quindi ha una visione Più politica E sociale Perché va a criticare Apertamente Sia a livello Sia agli americani Però anche i giapponesi Perché C'è una scena In cui Inapertamente È mostrata La stupidità Di alcuni militari Che continuano A voler la guerra Dopo la seconda Dopo la seconda Bomba Su Nagasaki Poi viene esplorato Tutto il rapporto Che c'è Per esempio Tra i bambini E quelli Che loro chiamano Di Hello Man Cioè I soldati americani Che arrivano Dopo Dopo l'esplosione O qualche anno dopo Nel finale Del film Dai turisti Americani Che vengono Che vengono A vedere Hiroshima Quindi c'è Tratteggiato Anche questo Questo rapporto Come Come si interfacciano Questi bambini Ormai rimasti Orfani Con 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 gli americani E una delle scene Pi' incredibili Del film Non è proprio Nel finale Quando viene rappresentata La marcia Diciamo Una marcia funebre In onore Dei 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 morti E c'è Questa Questa sovrapposizione D'immagini Tra i morti Che escono Quasi Dal mare Dal fiume Di Di Hiroshima E vengono quasi Trasportati Trasportati via E anche questo È un film Dal testamento Sia perché Come Cinde La firma Poi diventerà Iconico Anche nella rappresentazione Della bomba Degli attimi Della bomba E perché Poi Molti Molti personaggi Di questo film Li ritroveremo In film successivi A riguardo Per esempio L'attore Che recita Fa il professore Del film Diventerà il protagonista Di Hiroshima Monamour Di Di Renère Lo stesso Hiroshima Monamour Utilizzerà le immagini Di questo Di questo film In alcune In alcune Susequenze Il compositore musicale Che era lo stesso Anche di Cinde Di Hiroshima Sarà poi Il produttore Della colonna sonora Di Godzilla Quindi diciamo Che questi due film Sono I primi due film Che escono Dopo la censura Giapponesi Pongono le basi Per quella Che sarà poi La rappresentazione Successiva Degli eventi Se volete passare A qualche altro film Non so se volete Passare all'animazione O Parlare di Io più che altro Passerei Secondo me All'altro film Che assieme All'altro film Che pone Poi le basi Per la rappresentazione Diciamo Di questo evento All'interno Poi della loro cultura E vabbè La trama di Godzilla La sappiamo La trama di Godzilla La sappiamo tutti Cioè credo sia anche Superfluo Sia anche superfluo Vedirla Diciamo che Godzilla Messo appunto Contestualizzato In quella epoca Era un incredibile frutto Di quello che è Di quello che è stato L'attacco nucleare All'interno L'attacco nucleare Sul Giappone E quindi Questa figura Di Godzilla Questo mostro Che distrugge Tokyo Non è nient'altro Che una metafora Poi di quella bomba Però visto che L'introduzione Di Di Edo E con Edoardo Parlavamo Sul fatto che Questa puntata Forse era ancora più importante Porre Delle domande Più che delle risposte Diciamo Una domanda Che Mi pongo Che vi pongo E che vi pongo E intesa Sia a Gianmaria Edo Sia poi A colore Che ascolteranno La puntata E saranno poi libera Di commentarla Nei spazi appositi E Come mai Diciamo Il mostro Che è frutto Della bomba nucleare Quindi degli errori Che hanno Purtroppo Subito Che ha purtroppo Subito il popolo Giapponese Viene spazzato via Da un'altra bomba Ancora più potente Che è la bomba Che è la bomba All'idrogeno La bomba ossigeno Non ricordo Non ricordo Non ricordo bene Cioè per me È un caso Abbastanza curioso È un caso Abbastanza Particolare Perché sarebbe Come Amplificare ancora di più Quello che è stato Il disastro Nucleare Quindi non Metabolizzarlo Quindi Godzilla È Una sorta di Una sorta di Vatamecom Diciamo Della bomba Perché Godzilla Ecco Godzilla È un vatamecom Della bomba Di quegli eventi Un evento Che non può essere Dimenticato Non può essere Diciamo Metabolizzato In alcun modo La presenza Dell'ulteriore bomba Per ammazzare Poi il frutto Di quelle radiazioni Ne è Ne è poi La conseguenza Ovvero Questa è una delle piccole risposte Che ho Provato A dare io E essere curioso Di ascoltare le vostre Sì Gian Forse vuoi rispondere Prima tu? Io magari vado dopo Ah beh Io Mai pure tu Mai pure tu Ma Io penso che In questa domanda Si è in gioco Il problema Del rapporto Tra Il Giappone E la tecnica Mi spiego L'idea Di distruggere Il frutto Della tecnica Con la tecnica Equivale un po' A Non problematizzare La tecnica Di per sé No? Cioè In generale Tanto l'animazione Quanto il manga Anche I suoi vertici Penso a Miyazaki Fluttano un po' Tra un'idea Ingenua Di tecnica Buona Che può essere Quindi usata A scopi Benefici Che può anche Salvare il buono E una tecnica Cattiva Che invece È frutto Di Delle cattive Delle cattive Intenzioni In fondo Nel momento in cui Vai ad abbattere Godzilla Con ciò Che comunque Produrrà poi Soprattutto nel caso Di Shin Godzilla Di anno Altri mini Godzilla Altre mini entità Minacciose Insomma Mi lascia pensare Che in fondo E questo Questo è il genio Di anno Secondo me Che è sempre Idea che anno È sempre Capace di Di andare nel dettaglio Di capire Delle logiche profonde Spesso degli eventi Della contemporaneità L'incapacità del Giappone Di capire Che in fondo Se non affronti I problemi alla radice Rischi di riprodurli In forme diverse Più disseminative Più capillari E anche più insidiose E del resto Questo è successo Anche con Con la bomba Censurarla Oppure Provare a Domesticarla Non ha fatto nient'altro Che produrre Una proliferazione Di altri Sottoeventi Immaginari Altri piccoli Fantasmi Immaginari Che comunque La ripresentificano Ogni volta Quindi Il problema È sempre quello O affronti Le questioni Alla radice E per fortuna C'è anche dell'immaginario Che questo lo fa Oppure Rischi Di Eliminare Il problema Con il problema E quindi Di ingigantire Il problema Ecco Questa secondo me È un po' La logica Del problema Di Godzilla E secondo me Hanno Porta Godzilla Su Un livello Di complessità Poi ci possiamo Tornare Se volete Non indifferente Insomma Non so già Anche ne pensa A per certi messi Penso di essere D'accordo Perché comunque Parlare di scienza O tecnica Buona E scienza E tecnica Cattiva È un discorso Che ci sta Anche Nell'idea Comunque Di quello Che è L'idea Della tecnologia Rappresentata In Giappone È comunque Un paese Che ha sempre Fatto Della rappresentazione Tecnologica Un card E prima Parlavo anche Dei mecha Dei robot Degli anni Settanta Quindi Da questo punto Di vista Assolutamente È un discorso Che ha senso Non a caso Cioè Godzilla È comunque Una forza brutale E non mossa Assolutamente Dalla ragione Cioè È proprio Una brutalità Selvaggia Creata Erroneamente Dall'essere umano Che si ritorce Poi contro Contro gli stessi Esseri umani E quindi Forse il messaggio Del film È proprio Il fatto che Di contrapporre A una cosa Non mossa Dalla ragione Contrapporne O qualcosa Di creato Con lo scopo Di risolvere Un problema Poi È chiaro Che in questo caso La creazione Di un'arma È comunque Distruttiva Ecco Quindi Magari Non è l'esempio Più Più calzante Da questo punto Di vista Però comunque Penso che In chiave più Più metaforica Se vogliamo Si può Vedere comunque Una creazione Di una scienza Volta A risolvere Il problema A migliorare Comunque Quello che è Il clima Della stessa Della stessa Della stessa Umanità Ecco Però sì È una domanda Quella che ha Mossa Paola In realtà Molto Molto interessante E sicuramente Ci si può Ci si può Trovare Diverse chiavi Di lettura A riguardo Anche perché Lo stesso Godzilla Forse nel tempo Cambia Cambia molto La sua figura Cioè Solo nei primissimi film È una figura Legata al nucleare Poi diventa Quasi più Una creatura Che innanzitutto Inizia a difendere Più l'umanità Che a dargli contro E si lega Così più a livello Animista Alla natura Che alla bomba atomica Quindi il primo film Rimane molto Più ambigo Anche sotto questo Sotto questo punto di vista Sì 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 No Sono Sono Totalmente d'accordo E condivido Ogni singola Ogni singola parola Ogni singola virgola Ogni singolo Punto Dei discorsi Che hai fatto Sia tu Sia Edo Io Io Continuerei appunto Nel percorso Che stiamo tracciando Che Che fino ad ora Ci ha occupato Una bella porzione Di puntata E lascerei Visto che abbiamo parlato Una volta a Giamma Una volta a io E' giusto che Questa volta Riparli di nuovo a Edo Quindi Darei la parola A Edoardo E Gli chiederei Di Cioè La domanda che gli faccio Cioè Nella Nella tua Nella tua ricerca Quindi Che comprende Anime Che comprende manga Che comprende cinema C'è stato qualche Qualche opera O più di qualche opera Che Diciamo Ti ha richiesto Più studio Più tempo Perché aveva Dei richiami Dei richiami Molto forti A questo evento Ma Ce ne sono Diverse Anche perché Soprattutto A partire Dagli anni Ottanta Nell'ambito Dell'animazione Ma anche Nel manga E bisogna Essere Chiari su questo Anche il manga Vengono Alla luce Dei veri e propri Capolavori Anche Molto complicati Stratificati Ecco Con più strati E quindi Più difficili Da penetrare E che però Hanno un rapporto Con Il tessuto Sociopolitico E economico Del Giappone Non è indifferente Allora Per esempio Akira Nell'88 È certamente Essenziale Evangelion Nell'95 È essenziale Cioè Sono tutte Delle opere Che secondo me Segnano Un po' Delle cesure Nella storia Dell'animazione Dell'animazione Giapponese Poi ci sono Anche alcuni Autori Che sono Più ricchi Più complessi Di altri E che quindi Nel momento In cui Diventano Interpretri Della Contemporaneità Spesso Riescono A fornire Delle chiavi Di lettura Devo essere Sincero Anche più Interessante Di quelle Di molti Studiosi Cioè Per esempio Il caso Di Osci È straordinario Perché Veramente Vi si trova Dentro Un pensiero Molto Lucido Anche molto Duro Rispetto a Quella Che è la Condizione Ipermoderna O postmoderna Come la vogliamo Chiamare Quindi Tutti questi autori Che sono poi anche Grandi autori Della crisi Grandi Narratori Della crisi Di un momento Difficile Non solo Per il Giappone Che hanno Spesso hanno Anche una Visuale globale Incredibile Ecco Tutti questi Grandi autori Sicuramente Richiedono Più Attenzione Nel mio piccolo Cerco di Soffermarmi Su questi autori Con una Certa cura Però ecco Devo dire Devo essere Sincero Ci sono Anche dei Piccoli Gioielli Come Picadone Del 1978 Proprio Su Hiroshima Nagasaki Oppure Gen Che è Dell'83 E che sono Ricchi Sono molto Ricchi E quindi Questo filone Anche proprio Della Rilettura Del racconto Di Roshimi Nagasaki È un buon modo Anche proprio Di accedere Alla storia Del Giappone Prima Citavi Paolo Raccontavi Un po' Del Giappone Post Seconda Guerra Mondiale No? Un Giappone Immiserito Un Giappone Difficile Ma in fondo Io la vorrei citare Perché è una serie Che mi sta molto a cuore Anche Rocky Cioè Rocky Voglio dire Che è del 70 E del 71 La serie animata Tra il 70 E il 71 È proprio Sintomatica Di questa gioventù Abbandonata A se stessa In cui Vince Il più forte In cui In una certa Misura I valori Che avevano portato Il Giappone Alla svolta nazionalista Non si sono Poi veramente Dissipati Ecco Il discorso Di prima Quando non si elimina Il problema Alla radice Le cose ritornano Ritornano in modo Anzi più capillare Più endemico Ecco In Rocky Giù Noi assistiamo A un Giappone Che in fondo Non è venuto Proprio a patti Con i suoi problemi Strutturali Valoriali Profondi E abbiamo Un ritratto Di una società Abbastanza spietata Soprattutto nei confronti Di ragazzini E bambini Degli adolescenti Che poi è un tema Che si ritrova Sia Immediatamente Nel secondo Dopoguerra Con le narrazioni Di orfani Prima Gianno citava Gendi Roshima Ci ritorniamo E poi Continuerà Anche proprio Di crisi In crisi Fino A Oggi Voglio dire I ragazzini I children Di Evangelion Va bene Questi Che dovevano Dorebbero essere Appunto I portatori Di una nuova Rinascita Eccetera Sono in crisi Ma non sono Meno in crisi Anche se leggermente Più speranzosi I protagonisti Che vediamo Per esempio In molta In molta animazione Anche Meno Complessa A livello Discorsivo Come per esempio In Makoto Shinkai Penso a Weathering We Do Oppure In Yuasa Cioè anche in Yuasa C'è un senso Di crisi Di smarrimento Penso a Devil May Cry Baby Cioè c'è proprio Un senso di Di smarrimento Di crisi diffusa Quindi Diciamo che In tutti questi Prodotti animati In tutte In queste opere C'è questo senso Della crisi Cioè Venire a patti Con una Frattura Una fragilità Che oramai Contradistingue Il Giappone Contemporaneo Anche laddove Abbiamo a che fare Con delle narrazioni Abbastanza pompose Abbastanza Ottimistiche Di stampo Neonazionalistico Comunque C'è sempre Questo Sentimento Che qualcosa Non va più Che qualcosa Si è rotto Secondo me Qualcosa Si è Si è rotto Almeno dal punto Di vista storico A partire da Quelle due bombe Ora Tural Qualche giorno fa Mi hai mandato Una Una Infinita lista Di Di film Io Volevo Prendere in Considerazione Giusto Le Tre pellicole Animate Se Però voi Mi date L'ok Perché io Non so Bene i tempi Non so Se Vai Vai Tranquillo E non so Se Ecco Ti ho Risposto In qualche Modo Cioè Secondo me Si c'è una Contemporaneità Nell'animazione Che vuole raccontare La crisi Però lo fa In un modo Molto complesso Spesso Attraverso Delle narrazioni Molto stratificate Dei film Molto Stratificati Anche Di difficile lettura Penso Ai lavori Di Osce Intendiamoci Angel's Egg Per esempio No? Capolavoro Ecco C'è proprio Sintomatico Di Di Dissime cose Non solo Di Proprio Della condizione Esistenziale Dell'autore Ma Diciamo Quella è un'opera Proprio Direi Paradigmatica Insieme ad Akira Di Di Quella fase Lì Anche di Questo Famelica Ricerca Di molto Anche Immaginario Occidentale In Angel's Egg Si sente Molto Anche L'influenza Per esempio Di Dalì Non so Se Mi è mai Capitato Vedendo Quel film Di Riavvertire L'eco Di una realtà Che Sfuma Nel sogno Anche di De Chirico Per esempio De Chirico Cioè C'è una ricerca E poi Diciamo Diciamo La verità Akira Ma anche Berserk Berserk È dell'88 Cioè ci troviamo A Berserk È un'altra opera Che provo a riprendere Coetanio Tra l'altro Eh sì Sì Siamo È una frattura È la frattura Diciamo Di un mondo Del mondo Prebolla Finanziaria Che la bolla È dell'89 Akira È dell'88 Berserk Si è capito Che la Il raccontino La favola Del Giappone Che avanza Non ha proprio Grandi fondamenta Anzi Ma già il Periodo delle proteste Di contestazione In Giappone Tra il 62 Il 69 Comunque Aveva Fatto intuire Che i giovani Giapponesi Non se la volevano Bere questa storia E Che in realtà Si stava preparando Un Giappone Nuovamente Bellicista Armato Che non Si importa Della questione Ecologica Quindi in Giappone Che diciamo Hiroshima e Nagasaki Se l'era messi In disparte No Invece io Di tutta questa lista Di film Che mi ho mandato Ho scelto Gen Poi In questo piccolo Angolo Di mondo Che è un film Delizioso E Chiaramente Una tomba Per le lucciole Allora Gen Vado Datevi voi Vado 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 Tanto qua Con i tempi Siamo abituati A Andare Oltre Necessario No io chiedo Perché non so mai Non è che voglio arrivare qui Via più No 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 Figurati Faccio come una mini bomba Che affondo il programma Ma questa puntata dovrà essere La bomba dei podcast Quindi tranquilli Esatto Ah la bomba dei podcast Cioè io ho capito Quindi sono la mascotte Diciamo di questo evento Speriamo di non essere invece Devastante Allora Gen Gen è dell'83 E Mi sembra interessante il fatto che Gen sia stato adattato nell'83 Il manga Ha questa forma di ricordo Si ritorna indietro L'autore racconta la sua esperienza L'adattamento dell'83 C'è neanche un secondo Non particolarmente interessante Devo dire La realtà Solo per un aspetto Magari Interessante Il racconto dei sopravvissuti Cioè Il fatto che dopo Hiroshima e Nagasaki Ma già si vede Nel primo Questo I sopravvissuti Hanno una vita difficile Anche perché si sparge la voce Che i sopravvissuti Sono quasi degli appestati Questo è interessante Lo nota anche Messico Perché Molti sopravvissuti Un po' come i sopravvissuti I militari Sopravvissuti Alla seconda guerra mondiale Vengono visti un po' come Un disonore Sono la macchia Della sconfitta Ancora in vita E quindi sono un continuo Memento della sconfitta Che negli ideali Del buscido Quindi Del morire gloriosamente In battaglia Del non tornare vivi Se non si è vinta la guerra Oppure di morire per mano Del nemico Con onore eccetera Chiaramente sono Dei reietti Sono delle figure Che devono essere Marginalizzate Gen di Hiroshima Devo dire Racconta anche questo C'è un episodio Molto forte Proprio di un Sopravvissuto Che addirittura È divorato Dalle larve E il piccolo gen Con il Fratellino adottivo Uguale al fratellino Morto Durante i bombardamenti Protegge Un sosia Tra l'altro Diciamo Puliscono E quindi c'è anche questo Tema Questo problema Della cura Della cura Di queste figure Che è ricorrente In queste narrazioni Eh Parliamoci chiaro Anche in Mononoke Hime Nella principessa Mononoke di Miyazaki Ci sono i lebrosi Siamo in un contesto Di guerra E anche lì Una ripresa Di questo Problema Diciamo Degli ultimi Durante i tempi Difficili Durante i tempi Di guerra E Gen Di queste manifestazioni Di bontà Di cura Di magnanimità Ne è pieno Ne è pieno Perché Tutta la narrazione Di Gen Di Hiroshima È basata Su questa Contrapposizione Tra La guerra Brutale Con cui inizia il film Con questa sorta di cine Giornale Che racconta Di eventi storici In modo suggestivo Magniloquente Fiamme Il paradigma Del Hiroshima Inferno Quello che diceva Gianni Io dico Proprio un paradigma E Hiroshima Come inferno E dall'altro L'umanità Invece Dei giapponesi Sopravvissuti Che sono invece Le vittime Che in qualche In qualche modo Tentano Di Restare umane Ecco Quindi un'umanità Che resiste E la metafora È principale È quella Dei ragazzi Grano Che dice il padre Il padre dice Dovete crescere Come il grano E quindi Diciamo Essere un futuro Migliore Per il Giappone Gen La nuova generazione Sono i ragazzi Grano Un po' Una sorta Di anticipazione Degli Shinruingidi Di quelli Come i children Di Evangelion C'è questa generazione Che deve portare L'umanità A una nuova età Una nuova era Nuovi fasti Questa generazione Di rinnovamento Addirittura Di rinnovamento In termini Di evoluzione Che chiaramente È un macigno Sulle nuove generazioni Perché Vacci a crescere Nel secondo Dopoguerra Sapendo che tu Sei il futuro E tutto dipende Da te È una responsabilizzazione Immensa Che ha una serie Di implicazioni Psicologiche Non indifferenti In primis L'adultizzazione Forzata Di questi bambini Prima Prima si parlava Di Cedro Novi Roshima Anche lì Si vedono Questi bambini Sovravvissuti Che già lavorano Che devono venire a parte Con la morte Dei genitori Alcuni Lo accettano Alcuni No Quindi Questo problema È di questi Bambini orfani Che però Devono crescere Devono Devo prendersi Il mondo in mano Se no Il Giappone Va in rovina Quindi vedete Comunque La mentalità Del De Diciamo L'ideologia Del Giappone Ante Seconda guerra mondiale E Seconda guerra mondiale Permane No Questa idea Di responsabilità Di bisogna Far tutto bene Per la patria Bisogna Mandare avanti La patria Again Nell'83 Nell'epoca Di sconforto Di avvilimento Deve ribadire Questa cosa qui Deve ribadire Che il Giappone Nonostante le difficoltà Le nuove generazioni Devono portarlo avanti E devono E devono E devono Salvarlo Devono salvarlo Perché nonostante Diciamo La distruzione L'ordine del mondo Che è perduto Che è simbolizzato Prima ridevamo Dei simboli No Qui è un simbolo Ecco Questo è un simbolo I capelli sciolti Della madre Al vento Sono un simbolo Perché Sono il simbolo Dell'ordine Dell'ordine Che si è sciolto Si è invertito L'ordine Delle cose E quindi La madre che ride Con i capelli sciolti Come una strega Tra le fiamme È proprio Un'immagine simbolica Di un mondo Che non ha più Caponecoda I morti I vivi sembrano morti I vivi sembrano Degli zombie Che camminano Tra le macerie Roshima Quindi a questo mondo Inferno Cavolto Si contrappongono I buoni valori I buoni valori Giapponesi E questo discorso Che si trova In guerra È interessante Perché C'è anche L'idea Della colpa Dei giapponesi Questa è importantissima Questa cosa qui Cioè Giapponesi Che sono colpevoli Di quello Che gli è successo E tutto quello Che è accaduto Le due bombe In fondo Giapponesi Se lo sono voluto Quindi c'è Questo meccanismo Di autocolpevolizzazione Per i Roshima Che è un dispositivo Molto Ma molto Particolare E peculiare Che Giappone Attiverà Perché Perché Diventare colpevoli Di Roshima Vittime colpevoli Di Roshima Diventava anche In automatico Una sorta di Diciamo Di espiazione Pro bono Per tutte le colpe Che i giapponesi Avevano compiuto fuori In Manchure Cioè Quindi C'è una sorta di Diciamo Di purificazione Di espiazione Delle proprie colpe Attraverso Attraverso I Roshima E Nagasaki La santificazione Di Roshima Questa cosa qui Ha delle conseguenze Importanti Sull'inconscio Collettivo giapponese Che non solo Non riesce a sradicare Una serie Di valori Spettri Ideologici Preguerra Ma Soprattutto Non viene Appatti Con il proprio Inconscio Coloniale Ecco Di forza Che era andata Anche A raccontare All'Oriente Che tutto Doveva unirsi Sotto il grande Impero giapponese E che l'era andata A raccontare Con le armi La forza E gli esperimenti Anche Sui corpi Umani Quindi C'è questo Sotto la retorica Di Gen Che è molto forte Molto commovente Molto duro È una È una lacrima Strappastoria Come avrebbe detto Un tempo Maccio Capatonda Sotto questo racconto Però insomma Ci sono dei nodi Risolti E si sentono Di questo Giappone Che si deve Rialzare a tutti i costi Durante la crisi Degli anni Ottanta Lo deve fare Ricordandosi Di Roshima E che però Non viene a patti Con una serie di fantasmi Che continuano Ad infestarlo Quindi Crescete come il grano Però Non è chiaro come Non è chiaro in quale E non sarà chiaro Nemmeno Ai protagonisti Di Evangelion Onestamente Invece Invece Takata In una tomba Per le luciole Dell'88 Quindi l'anno prima Vedete la questione Che dicevamo prima L'anno prima Della bolla Della crisi Takata Socialista Uomo Attento Ai conflitti di classe In tutti i suoi racconti Che cosa fa? Prende Il mondo Pre e post Roshima e Nagasaki Prende il Giappone Prima e dopo Con l'evento atomico Che viene praticamente Solo nominato Di passaggio Cioè non c'è Cioè non c'è In poche parole Racconta In realtà Il divario Di classe E racconta cosa? La realtà Storica Di quel momento Cioè che dietro Il nazionalismo Dietro questa retorica Della patria Dobbiamo lavorare Per la patria Cioè c'era in fondo L'ideologia del più forte Perché chi se la poteva Permettere Questa ideologia? Chi stava bene? Chi stava male? Cioè aveva fame? E doveva essere La leva La leva portante Di questo progetto Di espansione Anche coloniale Del Giappone E la donna Che per un breve tratto Si prende cura Dei due bambini Continua Li tartassa Di continuo Vedete L'adultizzazione Dicendogli Dovete Lavorare Per la patria Per il bene Della patria Eccetera Questo Prestare gli ultimi I raietti Questo colpevolizzarli Come inutili Come inutili Alla causa del Giappone Come qualcosa Da Da Rimproverare È Un problema Un tratto problematico Di molta narrazione Di quel periodo Takata lo sa E punta il dito No? Questo è un tratto interessante Di una tomba per le luciole Secondo me Molto Interessante Perché La mostra L'orrore In un'ottica Anche di classe E non solo Generazionale Quindi hai Sia un racconto Generazionale Sia un racconto Di classe Quindi hai Il nazionalismo Il patriottismo La retorica del lavoro E dall'altra parte Anche la spietatezza Sui bambini orfani Che devono diventare adulti E devono Come dice In un momento A un certo punto del film Viene detto Al fratello Al fratello Più grande Devi mangiare Così cresci Diventi un buon soldato Gli viene detto E Takata Poi secondo me Con un colpo di fulmine Con un Gioco di montaggio Fantastico Mette a confronto Le lucciole Con la parata Delle navi No? Sì Cioè Le lucciole Che sono L'incanto L'illusione La bellezza Che però dietro Poi muoiono Quindi nascondono Nascondono Una caducità E che è un po' Noi dobbiamo Noi dobbiamo Prendere i metodi Di studio Dei film Cioè spesso In realtà Sono i film Che ci dicono Come studiare i film Cioè Takata In fondo Ci sta dicendo due cose Uno Andare anche Alla realtà sociale Vedere i rapporti Di forza Della questione E due Ci dice Che Questo E lo dice Con l'ultima inquadratura Del film Tutto ciò Non è un passato Che non ha più Nulla da dire Ma è coesistente Esiste insieme Al presente Cioè I bambini Che guardano La città ricostruita Di oggi Come due fantasmi Come due spettri No? Sono In qualche modo Un'immagine Di una presenza Del passato Che continua Fantasmaticamente A bussare Alle porte Del Giappone Moderno Che non ha risolto Dei nodi Che nei primi Del novecento Erano chiarissimi Che sono nodi Ideologici Forti Radicati Nel tessuto sociale E con cui Il Giappone È venuto È venuto Poche volte A patti E che continua Tutt'oggi A trovare Tra le pieghe Dei propri discorsi Soprattutto di propaganda Quindi ecco Una tomba per le luccele Secondo me Diventa Una sorta di film Metodologico Che ci permette Sia di disarticolare Le retoriche dominanti Di questi film Che spesso sono Come abbiamo visto Film film Di memoria Ma anche di consolidamento Ma anche di propaganda E di indagare Invece Questo passato Messo in forma Come un qualcosa Di estremamente attuale E chiudo Così poi Non vi affosso Veramente Definitivamente Il programma Spero di non averlo fatto Finora Sentiti In questo piccolo Angolo di mondo Nel 2016 Che è un film Un film Non miaziachiano Ma Takatiano Non saprei come Come chiamarlo Stessa impressione Che ho avuto anch'io Esatto È un film Che È interessante Perché Genchi Racconta Hiroshima Nel pieno Una tomba per le luci Ce lo racconta Per sentito dire Invece In questo piccolo Angolo di mondo Ce lo racconta Da lontano Perché abbiamo La protagonista Che viene da Hiroshima Si sposa lontano E va a vivere E va a vivere Fuori Hiroshima E quindi abbiamo A Kobe Se non sbaglio A Kobe proprio E va E racconta Da lontano Questa Questo evento E tra l'altro È bellissimo Il modo in cui Lo viene mostrato Perché è un bagliore E una breve scossa Questo è Hiroshima In un piccolo Angolo In questo piccolo Angolo di mondo Poi vengono mostrate Sul finale Invece Anche Devo dire Con una sorta Di discontinuità Visiva Molto marcata Molto forte Viene raccontata Seguendo quello Che è un po' Il topos Del racconto Su Hiroshima La furia Della bomba Che si abbatte Sul corpo Di una madre Che addirittura Viene mostrata Fino alla putrefazione E della figlia Anche qui abbiamo Una sossia La sossia Della Della piccola Hirumo Hirumi Se non sbaglio Che muore Proprio tra le braccia Della protagonista Che sta Con la madre Fino a quando La madre Non si accascia A terra Fino a quando Non verrà proprio Adottata Dalla protagonista Quindi C'è Il racconto Brutale Dell'Hiroshima Inferno Che c'è anche In Gen La spietatezza L'orrore La mostruosità Che forse È l'unica cosa Che diciamo Riesce Riesce Anche a distaccarsi Dalla retorica Di Gen Devo dire E In questo piccolo Angolo di mondo Però Secondo me Racconta Soprattutto L'impatto Della sconfitta Sulla psiche Proprio Perché Si mostra Senza retorica Devo dire Senza discorsi espliciti Sempre in modo Molto marginale Si racconta Sia la decadenza Valoriale Del Giappone Del Giappone Del tempo Una decadenza Soprattutto in termini Ideologici Chiaramente Sia il fatto Che la sconfitta Si imprime Come una ferita Devastante Nella psiche Dei giapponesi Come una grande Umiliazione Perché sacrificarsi Perché fare tanto Se poi Si finisce Massacrati E quindi In questo film Ritorna In un modo Veramente Bellissimo Sarebbe bello Soffermarsi Su questo film Ritorna Quell'idea Dei fasti Nazionalistici Che si dimostrano Essere morte E quindi Disastro Disastro Per Per il Giappone Tutto il film Ha questo film Rouge Dell'arte Che è Sia documento Sia qualcosa Che può Riprendere Nella memoria Gli eventi storici Provare a metterli In forma A dargli un ordine Sia anche L'arte Come trasfigurazione E Con questo Chiudo Secondo me Si hanno Così Quelle Che sono Le due Principali Strategie Di messa In forma A livello Dell'immaginario Negli eventi Della seconda Guerra mondiale In particolar modo Di Hiroshima E Nagasaki Un paradigma Di Rispecchiamento Che spesso Si traduce In un realismo Un po' Esasperato E paradossalmente Irrealistico Un po' Retorico Strappa Strappalacrime Ma niente di più E dall'altro Invece di capovolgimento Reincantamento Per cui L'evento atomico Il militarismo La tecnica Vengono trasfigurate E vengono Diciamo Reincantate Come qualcosa Di Che può Anche essere Buono Ecco Spesso in un modo Anche un po' Edulcorato E Questi Diciamo Questi due Paradigmi Secondo me Sono interessanti Ma io Vi aggiungerei Un terzo Che è quello Di cui mi interesso Io Che è quello Prodotto dall'occultamento E dalla censura Cioè la spettralizzazione Cioè il fatto Che l'evento Il momento in cui Viene occultato Ritorna Sotto mentite Spoglie Si Spettralizza E si diffonde In immagini Più o meno Immagini più o meno Orrorifiche Che secondo me Emergono Nel cinema Di crisi Post Anni Ottanta Qui mi taccio E spero di non avervi Tediati Di avervi dato Qualche spunto E Non so Mi sarebbe piacere Sapere che cosa Ne pensate Sono d'accordissimo Anche perché Hai toccato un punto Tra l'altro Cardine Secondo me Il punto Cardine Dell'animazione Giapponese Che è la figura Del ragazzo O dei ragazzi Ecco Cioè Penso che Se c'è un elemento Che ricorre Dal primo momento Fino all'animazione Attuale Che non è mai cambiata È la rappresentazione Dei ragazzi Nell'animazione Giapponese Tutti questi film Trattano ragazzi Ma anche film Di cui parleremo Tra poco L'Ovo dell'Angelo Akira E Bangalian Tutta l'animazione Giapponese Fin dai suoi esordi Parlavo prima Di Momotaro Di Astro Boy Dei protagonisti Di Gundam Cioè Tutta l'animazione Giapponese Si fonda Sulla figura Del ragazzo E del rapporto Che questi ragazzi Hanno Nel reagire A delle situazioni Di disagio Spesso create Dai loro padri Sì sì Le colpe dei padri Esatto E si sente Questo peso Parlavi soprattutto In Gendiroshima Di questo discorso Della ricostruzione Comunque Di un qualcosa Di cui loro Non sono minimamente Colpevoli Ma che si ritrovano A dover essere Proprio loro Insomma La nuova linfa Per il paese Non a caso In tutte queste opere Anche quella Che ho appena citato Troviamo di fronte Comunque A ragazzi Che molto spesso Soffrono Questa Questa situazione Evangelion Sotto questo punto di vista Tocca forse Il massimo Apice A riguardo Insomma Proprio perché C'è questa C'è questa tensione Queste Generazioni Più di una generazione Anche comunque Quelle degli anni Settanta Di Gundam Quelle degli anni Ottanta Come possono essere Di questi film Di Akira Quelle degli anni Novanta Di Evangelion Sono tutte Generazioni Una dietro L'altra Continuamente Colpite Da Non riconoscersi Nessun Valore C'è comunque Nel discorso sociale Da fare Sul Giappone Che comunque Sono anni Quelli post-guerra In cui si fatica A trovare Dei valori Che tengano uniti Anche tutta la Tutta la società Anche i moti Di cui parlavi Prima degli anni Sessanta Diciamo che In Giappone Non c'è stato Il Sessantotto Ma c'è stato Quasi una decade Di Sessantotto Perché le rivoluzioni Giovanili Studentesche Sono trate Tantissimi anni Anche quelle Nonostante ci fossero Diverse vie Di intendere I valori Erano tanti valori Contrastanti Non c'era un qualcosa Che univa al Giappone Come era Prima Prima della guerra Quindi Sento questo punto di vista È toccato un discorso Molto molto interessante Io vorrei Ad aggiungere solo due parole Su Gendiroshima Proprio in relazione Dicevo prima che Children of Hiroshima E Hiroshima Di Sekigawa e Shinda Avevano fatto scuole Questo è stato messo Proprio anche Nella realizzazione Di Gendiroshima Partendo Proprio dalla traduzione Quasi letterale Del titolo Del film Che dovrebbe essere Again dai piedi scalzi Dai piedi scalzi Esatto E qui si mette già In evidenza Come la scarpa Si apposita Un simbolo Di ricchezza E questo torna Proprio anche In Children of Hiroshima Dove Nel finale Verso il finale Del film Quando c'è uno Dei protagonisti Che regala Sua nipote Proprio delle scarpe nuove Prima che lui Esca da Hiroshima E vada con la professoressa Nella casa Dei suoi parenti Nell'isola Dove vive Quindi c'è questo ritorno Della figura Della scarpa Che è vista Proprio come Quasi una nuova Una nuova speranza Se vogliamo Proprio di speranza Parlavi prima Per esempio Del Del grano Dei capelli Che ricrescono Anche in Nello stesso Hiroshima Di Sekigawa C'è una sequenza In ospedale Visto che si diceva Che dopo L'esplosione Della bomba Non potesse più nascere Nulla sul suolo Giapponese Per 80 anni Invece anche lì Semiano Nell'orto Dell'ospedale Delle piante Si dice Che non cresca Ma però in realtà Poi iniziano A germogliare Quindi anche qui C'è questo Questo aspetto Ripreso Ripeto dal film Poi anche Nel momento Dell'esplosione Della bomba Si torna sempre Alla stessa soluzione Anche qui In Kandiroshima L'esplosione Della bomba Introdotta Dai secondi Di silenzio E poi anche qua I minuti I minuti Successivi A questo silenzio Sono un delirio Comunque Cromatico Di sperimentalizzazione Visiva Incredibile Con questi colori Surreali E come dicevi prima La situazione Di inferno Sono questi rossi Delle fiamme Che proprio Fanno proprio pensare All'inferno E quindi Ecco Tu prima Hai detto una cosa Molto bella Mi è piaciuto E nominato Proprio Questa cosa È l'inferno Per questo L'ho ripresa Perché Mentre ne parlavi Pensavo Anche Non è un caso Perché Gonagai Per esempio Ha illustrato La Divina Commedia Assolutamente Cioè L'inferno Anche nel modo In cui viene rappresentato L'Occidente Diventa una sorta Di riserva Anche in termini Proprio Di immaginario Per la rappresentazione Di Hiroshima E Nagasaki Per cui Si potrebbe veramente Ipotizzare Una sorta di paradigma Infernale Delle due bombe Ecco Della bomba Se volessimo dire La bomba Ecco Quindi mi sembra Mi sembra Molto Molto Interessante Quest'idea Che ha avuto Dell'inferno Ecco Non so Paolo Sull'ultimissima cosa Che è sul fatto Comunque Della speranza In Gendilosho Perché In realtà Prima del grande Dei capelli C'è comunque La nascita Della sorella Di 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 Geng Che è Tomoko Però In realtà È un segno Di speranza Che svanisce Così subito Perché Perché muore Dopo pochi giorni Proprio per Per mancanza Di Di cibo Quindi il film In realtà Sembra chiudersi In modo In modo Terrificante Anche sotto Questo aspetto Di una speranza Che viene negata In realtà Poi Nel finale Con il grande Con i capelli Viene un po' Alleggerito Questo peso Anche perché La scena In cui muore Tomoko È veramente pesante Anche a livello A livello visivo Perché parlavi Prima di Quando i due fratelli Andavano a curare Questa persona Pagati Nel momento In cui Ritornano dal loro lavoro C'è proprio Questa inquadratura In campo lungo Della casa Silenziosa Oscura Nell'ombra E poi Una seconda inquadratura Dell'interno della casa Sempre in ombra Con la madre Che cura La bambina morta Con questi tagli Di luce Impressionistiche Sono l'unica cosa Che Espressionistiche Sono l'unica cosa Che domina la scena Quindi è terrificante Oltre all'orrore Proprio alla bandiera Giapponese Insomma Cioè tutta una serie Di questi elementi Di speranza Di ripresa Però In sostanza Sì C'è Un scenario Tragico Cioè Rialzarsi Fino a un certo punto Quindi sì Sono veramente D'accordo Paolo Sì 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 No Io sono Io ascoltavo un po' Estasiato Al discorso Perché Come diceva anche Gian Hai centrato Molti punti Dell'animazione Giapponese Ma in realtà Forse hai centrato Il cuore Il cuore Su cui si anima Questa puntata Cioè il motore Proprio della puntata Il punto Che hai centrato tu E A proposito di questo Mi sembra che Proprio quello schema Che tu hai Individuato Precedentemente E' lo schema Su cui si basa Forse La stragrande maggioranza Della produzione Della produzione Culturale In Giappone E Tra l'altro Passando per poi Per le epoche contemporanee E quindi A breve parleremo Di Anakatami E The Whisting Star Sono due film Che escono un po' Da questi scenari Ma che sono dei film Che Fanno propri poi Questi schemi Che avevi adocchiato Cioè condivido Tutto il discorso Che poi si è fatto Su Evangelion Che fa Suo Tutta questa storia Narrativa E di metabolizzazione Della bomba Come vorrei Impreziosire Il discorso Che si faceva Sulle proprie colpe Sui disastri Accaduti in Manciuria E sulla bolla Finanziaria Sul disastro Della bomba Che poi Troveranno Il proprio apice In quel film Capolavoro Che è l'opera prima Di Shinji Atsukamoto Che è Tetsuo Girata nel 1989 Così come Il padre artistico Appunto Di Shinji Atsukamoto Che Gakuryu Ishi Girerà Quell'altro capolavoro Sull'inizio Del 2000 Mi sembra 2001 Che 80.000 volte Electric Dragon Che poi Sulla falsa riga Di Tetsuo Parlerà sempre Di Di corpo Mutato Di Di radiazioni E quindi Sempre questa Quest'ennesimo Tentativo Di Cogliere Un'altra sfumatura Di quell'evento Di quell'evento Tragico Ecco Io Io Quindi Tentando Di Avviarmi Verso Una conclusione Almeno Del mio percorso All'interno Di questa puntata Ci terrei A ricitare Nuovamente Death Stranding Di Hideo Kojima Di Hideo Kojima Perché secondo me Si colloca Perfettamente All'interno Di questo percorso Che abbiamo tracciato In quest'ora e venti Ore e mezza Perché Perché Death Stranding Oltre a collegarlo L'idea che hanno Come dicevo prima Tra uno scherzo E l'altro Secondo me È L'evoluzione Del discorso Contemporaneo Che i cineastri Giapponesi Stanno tentando Di fare Da Obayashi A Sion Sono Con Whispering Star E Anakatan Perché? Perché Innanzitutto Dal punto di vista Narrativo Whispering Star Di Sion Sono E Death Stranding Di Hideo Kojima Sono molto simili Ovvero Ci ritroviamo In una città Futuristica Come dicevo prima Dove c'è Questo fattorino Android Che consegna Questi pacchi Un po' Per ricostruire Il tessuto sociale Sfibrato Poi Dagli eventi È molto interessante Scoprire Che The Whispering Star È girato A Fukushima Quindi come dicevamo Sempre ad inizio puntata Un'altra città Che Si Aggiunge Alla lista Delle province Delle città Traumatizzate All'interno Della nazione Giapponese E quindi Girato Su Fukushima Quella Fukushima Che comunque È stato territorio Di Di film È stato territorio Di attivismi culturali Ormai Distrutti Si basa The Whispering Star Che non disdegna Appunto Una scena Per me Fantastica Dove c'è La protagonista Quindi il fattorino Che si accinge A portare Un pacco Al suo cliente E nel tragitto Verso Casa del cliente C'è questa Sorta Di rappresentazione Virtuale Di Di quella Che era Di quella Che era La cittadina Prima della bomba Per certi Stanti Se non mi sbaglio Se non mi sbaglio Mi sembra sia stata Ripresa proprio dal Museo di Arti Digitali Che c'è Nel museo Di Hiroshima Però molto probabilmente Una cantonata Quello che ho detto Quindi Eliminate Lava il discorso E quindi Questa sorta Di Rivisitazione Questa sorta Di Rievocazione Virtuale Digitale Della bomba Lo lega Fortemente A quel capolavoro Di Hideo Kojima Che è Death Stranding Che poi Per chiudere Il triangolo Si riconnettono Ad Anagatami Dove anche lì Obayashi Attraverso Questo film Stupendo Dal classico stile Di Obayashi Quindi uno stile Totalmente Artificioso Che Non maschera Di certo L'inganno Non maschera Di certo Il trucco E i trucchi Che si celano Dietro il cinema Quindi Con Elissi Elissi Totalmente Sbagliate Con Scavalcamenti Di campo Continui Ecco Lì secondo me Si diverte proprio A distruggere Proprio come Una bomba nucleare Quella che è La grammatica Cinematografica Si concentra Su questa Comunità Di ragazzi Che cresce Si rapporta Tra di loro Attraverso Questi personaggi Più o meno Strambi Fino poi Alla scena Alla scena Clu Dove ancora una volta Rivediamo Questi personaggi Che assistono A questo fungo atomico Che si estende Per questo cielo Che sembra fatto Di Sembra fatto Di Cartapesta All'interno Di questo Film De Bayashi E Rivediamo Ancora una volta Il fungo atomico Però qui In uno stile Molto più Fumettoso Digitalizzato Quindi Il Giappone Contemporaneo E ci aggiunga E ci aggiunga E ci aggiunga anche Irioko Jima Perché Perché Death Stranding Ambientato in America E comunque Giapponesi Di nascita Tentano 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 di Tentano di Metabolizzare Agli inizi Diciamo Agli inizi Negli anni 90 A calarsi E' una cosa E' una cosa E' una cosa Che fa anche In realtà Fa anche Shinkai Sono due film Che per approccio Hanno appunto Delle scelte Molto simili Perché riescono A rendere Idiliaca Anche Un avvenimento Comunque Un periodo Un periodo Di 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 Tragedie Veramente Impressionante E Shinkai Fa proprio questo Perché la rappresentazione Delle due comete Che si schiantano Poi Sul Sul paese Della protagonista Sono un chiaro riferimento Alle due bombe Alle due bombe atomiche Però ancora una volta Qui ci troviamo davanti Alla scelta di Shinkai Comunque Di Di rivedere Tramite Tramite Il pop Il mondo pop Che è quello Da cui Da cui si rifà E non solamente A livello Continente Ah vabbè Di contenuti Ma si rifà anche A livello A livello puramente Tecnico Perché secondo me È il primo grande Regista Pop Anche a livello Tecnico E di fatti Da lì in poi È cambiata Anche il modo Di fare L'animazione Giapponese A riguardo Però Un altro discorso Che verrà affrontato Magari In altre tesi In altri In altri momenti E quindi Siccome è un'operazione Simile Sia a livello Di digitalizzazione Sia comunque Di inserire L'evento tragico In un nuovo modo Appunto Tramite Un'estetica Più pop Come può essere Evangelion Come è Anagatami Appunto I film Di Shinkai Ma posso aggiungere Una cosa Proprio rispetto A quello che hai detto Tu Gian Certo Certo È interessante Questo aspetto Anche Della Della bomba Che viene Poi capovolta Perché prima Parlavamo Dell'idea Del rincantamento Di questa bomba Che poi viene Metabolizzata Attraverso Un rovesciamento Per cui la bomba Diventa anche Esiste Perché esiste Anche la bomba Kawaii Cioè La bomba Carina Simpatica Cioè la bomba Per esempio Ci sono i lavori Di Takashi Murakami L'artista Contemporale Non lo scrittore Che Sono delle Esplosioni Di colore Delle Esplosioni Super pop Nel suo caso Si parla Di Super flat Cioè Delle Superfici In cui L'immaginario Esplode Un po' Come già aveva Fatto Tezuka In Bella Donna Sadness E Queste Superfici Su cui esplode L'immaginario Esplode Il colore Esplode Tutta la cultura Pop Sono però Piene di rimandi Alla bomba Penso A opere Come Come Di Apocalittico Di Apocalittic Champ Ad esempio Oppure Molte sue Mostre Proprio a tema Bomba Perché Secondo me Avviene anche Un fenomeno Interessante Che Vedrei come Una sorta di Filiazione Del postmoderno Di cui L'ultimo Tezuka E poi anche Anno Erano stati sintomatici Cioè In fondo Questo mondo Bisogna Salvarlo Ma perché Cioè Che c'è da salvare Non è meglio Crearne uno Nuovo Magari Di tipo Immaginario Un mondo Da cui Fuggire Anche Con Dei sistemi Completamente Alternativi No E quindi Si introduce Il problema Della digitalizzazione Che Dicevate Dicevate voi Mamuro Hosoda Shinkai Sono pieni Di questi Rimandi A mondi Possibili Che possono Essere Esaggiati Attraverso L'immaginazione Mondi Traumatizzati Che possono Essere Capovolti Mondi Invece Se non Idilliaci Quanto meno Felici Per cui I personaggi Di Your Name Possono Cambiare Nel corso Degli eventi Tornando Nel passato I personaggi Di Mirai Possono Accedere A una sorta Di Genealogia Che li fa Di genealogia Tra il digitale E il naturale Che gli permette Di andare indietro Nel passato E ripercorrere La propria storia Anche familiare Cioè C'è questa idea Di poter Pensare E anche poi Generare Dei mondi Alternativi Attraverso La tecnologia E in questo I traumi Chiaramente Vengono Capovolti Vengono Vengono Reincantati Oppure Vengono dati Degli spiragli Che magari La generazione Di 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 Osh Di Anno Non vedevano E quindi Vedevano In questo mondo Che tutto sommato Potrebbe non essere Salvato L'alternativa La vedevano In una chiusura Nell'io Nell'interiorità Nella psiche Dei personaggi Si vede molto bene Questo problema Indiendo Evangelion No? E qua Nel finale Soprattutto Negli ultimi Dieci minuti In cui Cingi Fa tutto Un sermone Insieme Ad altri personaggi Su perché In fondo È meglio Uscire Da se stessi Uscire Dalla propria Corazza Dal proprio Mondo Interiore Quindi Quella generazione Lì Piragli Vedeva Difficoltà La nuova Grazie anche Al digitale Mi sembra Vederne di più Non so voi Che cosa Ne pensate Di questo Però Mi sembra Che il digitale Sia stato Interpretato Anche come Una sorta Di Rielaborazione Tecnologica Tecnica Del Lutto Ecco E quindi Anche come Una forma Di reincantamento Non so voi Che cosa Ne pensate Ragazzi Sono d'accordissimo Anche perché Comunque C'è da fare Un po' Sarebbe da fare Un discorso Molto anche Su come è cambiata L'animazione Giapponese Poi negli anni Negli anni 2000 Perché se pensiamo Poi a tutti i film Anche di cui Abbiamo parlato Oggi Degli anni 80 Magari Non abbiamo parlato Neanche molto Di Akira Per un altro film Sintomatico Se volete Poi ne accenniamo Un po' Tra poco Però Sono tutti i film Sintomatici Che comunque Gli stessi film O serie Degli anni 70 Continuo a citare Gundam O anche Comunque le serie Di Dico Nagai Di Matsumoto Comunque fino agli anni Agli anni 80 Ci troviamo di fronte A un'animazione Molto matura Nonostante sia Per ragazzi Sia per tematiche Sia per Comunque Come vengono trattati Anche a livello Psicologico Di vari personaggi Negli anni 90 Iniziano comunque Anche con l'uscita Degli Battle Shonen Delle opere Comiche Per esempio Di Rumiko Takashi Call his life of life C'è un progredire Alleggerimento Delle tematiche Comunque Delle sensazioni Un po' che si respirano In Giappone Finché non si arriva Agli anni 2000 Dove c'è un'esaltazione Totale Della cultura pop Cioè Le tematiche Quasi Nelle opere Non esistono quasi più Se non in alcuni autori Un po' C'è anche un ottimismo Esattamente Sì sì Diventa sempre più Negli anni 90 È ottimistica A livello anche Di crescita Sociale Negli anni brevina Si Sembra proprio Creare un mondo Un mondo a parte A me viene da paragonarlo Comunque All'ambientazione Disney Nel senso È un mondo È un altro Giappone E è una cosa incredibile Che il bello del Giappone Che Contemporaneo Che comunque Utilizza questa immagine Anche a livello proprio Sociale Politico Per Per mostrarsi al mondo Perché mi viene in mente Anche per le Olimpiadi Di Tokyo La presentazione Abe si presentò Uscendo dal Dal Dai cubi verdi Di Super Mario Con i capelli di Super Mario Cioè Personaggi come Hello Kitty Sono Sono ambasciatori Comunque Di Di alcuni Del governo Cioè È proprio Un modo Totalmente nuovo Di intendere Sia l'animazione Sia la società Perché sono due cose Che ormai Sono diventate Sono Stanno andando in simbiosi Per certi punti Di vista E quindi Anche questi Questi autori Abbiamo citato Zoda Mascome Soprattutto Shinkai Quello che Da questo punto di vista Va Va proprio oltre Nei film di Shinkai Cioè È questa volontà Dello stesso Shinkai Di diventare Proprio Colui Che muove La narrazione Cioè I personaggi A differenza Magari Di quelli Degli anni Ottanta I ragazzi Degli anni Ottanta Come Sono quelli Di Evangelion Come Quelli Di Akira Che Si Creano Il futuro Da solo Lottando In un mondo Allo sbaraglio E con le loro forze Riuscendo ad arrivare A dei risultati In realtà I personaggi Di Shinkai Riescono in quello Che fanno Sì Perché ci credono Ma è Shinkai Che gli permette Di Cioè È lui Che permette Quello che succede Anche in In Your Name Cioè Nel momento In cui I due personaggi Con quel campo Controcampo Magnifico Sul monte Si incontrano Una prima volta Cioè Loro vogliono Incontrarsi È proprio Per questo Che Shinkai Gli permette Di incontrarsi Cioè Nelle opere Precedenti Non c'era Questa interferenza Del regista Poi Nella scena Proprio Del film Invece Quello che Secondo me È la genialità Di Shinkai È proprio Questo Il suo Intervenire In prima persona Poi Nel Nel Materiale Filmico Ed è quello Che poi Tutta L'animazione Pop Giapponese Poi Shinkai Lo fa in modo Elegante Mentre la maggior parte Dei prodotti Che escono Ci cedono cose Totalmente insensate Perché sì Insomma Sappiamo che Comunque Gran parte Del prodotto Pop Tipico Giapponese È abbastanza No Senza È ben poco Curato Sì Sono rare Sì Sì È proprio Sintomatico Comunque Di questo Sintomatico Comunque Di questo Di questo Clima Superidiliaco Che tutto Può succedere Se basta Che lo vuoi E quindi Ecco È cambiata Molto Anche rispetto Alla Coppezza Delle opere Precedenti Sai una cosa Che hai detto Una cosa Straordinaria Perché è vero Questo è anche Un po' Il Diciamo Il fattore Ideologico Cioè Tutto Può cambiare Se lo vuoi Però Tu individuo Cioè Mentre Ecco Nelle opere Degli anni Diciamo Del passato Tu trovavi Anche ancora Una percezione Che quello Che avveniva Quello Che si faceva Poteva avere Un portato No E che quindi C'era una responsabilità Anche rispetto Agli altri Invece In In questi ultimi Lavori Cioè Il punto è Ce la devi Ce la devi fare Ce la devi fare Tu Devi salvare E tu Pensa Weathering with you Weathering with you Cioè È vero Che è molto Anticonformista Nell'ottica Del Giappone Della comunità Che abbiamo Anche cercato Di mostrare Prima In tutta la sua Criticità Ipocrisia Eccetera È innovativo Perché Lei si salva Lei non si deve Sacrificare In weathering with you Per salvare Il clima globale No Questo no Però è indubbio Che diciamo C'è comunque Una virata Su questa Contrapposizione Di individualismo E società O ti salvi tu Pensi alla tua Felicenza Bene tu Oppure Capito La società La società Ti assorbe Ti schiaccia Ti sacrifica Per cui Si è creato Questo divario Tra la società E l'individuo In molte retoriche Della globalizzazione Che poi ha Delle conseguenze politiche Non indifferenti Perché Se c'è Una dissociazione Dell'individuo E del percorso Di vita dell'individuo Del percorso Di vita Della società Allora È evidente Che entra un po' In crisi L'idea come Politica Come agire Collettivo Che invece Con tutti i limiti Le difficoltà Le fatiche Era un problema Ancora sentito Per esempio Da un takata No? Cioè In un takata Hai ancora Questo sguardo sociale Questo sguardo sociale Complessivo In Miyazaki Anche Invece In questi ultimi C'è la sensazione Che in fondo Dipende da te Da se lo vuoi E dai tuoi sogni Ma in sostanza Gli nemmeno Proprio il dia Di un agire collettivo No? E questo Secondo me È un problema Anche perché Poi si rispecchia Nell'uso Politico Che dell'immaginario Degli anime De manga Fa la politica No? Cioè direi Il rischio È un'animazione Un immaginario Nipponico Al servizio Di certe Ideologie Dominanti E invece Secondo me L'animazione È stata anche grande Perché spesso È stata controideologica No? Non so se Su questo punto Cosa ne pensate? Sono assolutamente D'accordo Poi non vorrei Magari Allontanarci Troppo Dal tema Della bomba Stiamo facendo Una puntata Bellissima Sull'animazione Giappone Però Ha assolutamente Ragione Quello Che dici Perché Necessariamente Quello che La necessità Comunque Che era Quella Degli artisti Degli anni Degli anni Ottanta Era comunque Quella di Anche schierarsi In modo Evidente Contro Alcune Idee Anche Alcune censure Nell'immaginario Di Traumi O comunque Di situazioni Che non andavano bene Lo stesso Gli stessi Osci Ottomo Sono stati due autori Fortemente Sociopolitici Antimilitaristi E quindi Anche Mi ha Stato È stato un cambiamento Totalmente radicale Sotto questo punto di vista Innanzitutto Sono Estremamente D'accordo Con quello Che dicevate Voi Cioè Sul cambiamento Ideologico Perché poi Al di là Della Tragicità Dell'avento È credo La digitalizzazione È uno È uno Dei tanti Modi Poi Bisognerà Vedere Come crescerà Il media Dei videogame E come si approcceranno Gli autori Giapponesi A quel media Perché mi sembra Che comunque Kojima Con Death Stranding Ecco Abbia già dato Un'altra variante Di quella Di quelle Di quell'evento Tragico E io credo Che a lungo andare Più Più passeranno Gli anni Più ci saranno Più ci saranno Nuove Nuove Spaccettature Di rappresentazione Di Di rappresentazione Di questo evento Anche perché poi Le ideologie È normale È normale Che cambino Come Facciamo Notare Già Nelle precedenti puntate Delle Nippon Monogatari Sulla Katana Notiamo già Che nel Chamber Nel GDJ C'è un cambiamento Quasi radicale Tra il Pre Anni 40 E post Anni 40 Più o meno Super Giul E quindi Quindi sì Io credo Sia normale Poi chiaramente Sarà una cosa Di cui ce ne accorgeremo Tra 30 anni 40 anni Quando studieremo Gli anni 10 E gli anni 20 Con Una concezione storica Ben diversa A questo riguardo È bello Chiudere con L'immagine Proprio di The Whispering Star Che secondo me Rappresenta Quello Quello che appena detto Proprio nel finale Del film Quando lei sta Consegnando L'ultimo pacco Si ritrova A camminare Tra Quegli Di scioghi Dove c'è Dietro la gente Che vive Come si viveva Precedentemente In quella scena Che sembra quasi Un museo D'arte D'arte Contemporanea Per come Rappresenta Secondo me Appunto In quegli istanti È rappresentata Proprio Un personaggio Che rivive Delle cose Che non Ha vissuto Perché giustamente In The Whispering Star Ci troviamo davanti A un mondo Post-apocalittico Desolato E quindi Lei che passa Attraverso queste scene Di vita quotidiana Come era la vita quotidiana D'un tempo Rappresenta Quello Che hai detto Cioè Queste opere Che comunque Hanno Hanno scritto Comunque La storia Della bomba E Nel futuro Logicamente Ci sarà Un modo Totalmente Differente Di Di rappresentarle Già adesso Proprio perché Nessuno ha vissuto Quei momenti Quindi Li vede In modo In modo Lontano da sé Proprio perché Lontano nel tempo Come la stessa Protagonista Di The Whispering Star Vive quelle Quelle scene quotidiane Che con lei Non hanno nulla Nulla a che vedere Insomma È un'immagine Abbastanza forte Esatto Per me È la perfetta La perfetta Conclusione Quindi In gesura Io colgo L'occasione Per ringraziare Edoardo Per essere stato qui E per averci Grazie a voi E ovviamente Noi speriamo Di Speriamo di Ritrovarlo Ovviamente Su questi canali A parlare di Animazione Di Giappone Ma anche Di altro Chissà Di Giappone 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 Grazie a tutti.